I consiglieri di opposizione della comunità di Valle, Ezio Paolo Viglietti e Angioletta Maino, hanno preparato oggi una domanda di attualità da sottoporre al presidente Malferre in occasione del prossimo consiglio, inerente la fascia Lago e l'area ex Cattoi. Prendiamo atto, scrivono i consiglieri, che i nuovi proprietari dell'area hanno presentato presso gli uffici tecnici del Comune di Riva del Garda e della Comunità Alto Gardeledro il piano di comparto e che lo stesso prevede un'area commerciale di 900 metri quadri, una residenziale di oltre 5.000 metri quadri, parcheggi, un'area di verde pubblico di 5.100 metri, una pista ciclabile su Viale Rovereto dove si affaccerebbe anche una grande piazza. di circa un migliaio di metri quadri. Ricordiamo però che il piano attuativo, precedentemente approvato, scadrà il 24 marzo 2017 e che entro tale data la società proprietaria dovrà realizzare le opere di urbanizzazione con scarsissima possibilità di vederle terminate. Quindi si dovrà procedere all'elaborazione e approvazione di un nuovo piano attuativo entro 18 mesi. Secondo il nostro parere, proseguono Viglietti e Maino, la destinazione d'uso dell'area ex Cattoi a edilizia residenziale non è più aggiornata e accettabile da parte dei cittadini dell'Alto Garda, in quanto fa parte integrante della fascia lago, che è di notevole importanza strategica in quanto bene pubblico. Il gruppo Onestà, Partecipazione e Ambiente chiede quindi al Presidente della Comunità Alto Gardeledro se ritiene opportuno invitare la nuova società proprietaria dell'area ex Cattoi ad una riunione della Commissione Urbanistica e Temi Ambientali della Comunità, allargata a tutto il Consiglio, per dare le informazioni tecniche del piano di comparto e se ritiene opportuno organizzare un evento pubblico dove la società proprietaria e il Sindaco di Riva del Garda illustrino le prospettive della destinazione d'uso dell'area ex Cattoi.